Buongiorno a tutti, siamo a Coworking di Sovico, Monza Brianza, in compagnia dell'ingegner Marco Carta che è qui, buongiorno Marco, parte di questa community da poche settimane. Come si sta nel Coworking di Sovico? Si sta molto bene, devo dire, molto, clima molto rilassato, quello che cercavo in effetti. Sono arrivato da poche settimane, però devo dire che ho azzeccato subito la scelta. Qual è la tua attività? Io sono un ingegnere civile, diciamo che arrivo da un passato di dipendente, a un certo punto per vari motivi ho deciso di mettermi in proprio, per cui cercavo un posto, una postazione dove poter avviare la mia attività e ho scelto Coworking di Sovico. Avevi già esperienze di Coworking, conoscevi questa modalità? No, a me mi è sempre nata la curiosità due o tre anni fa quando ho iniziato a sentirne parlare da amici. Qualcuno mi ha detto che si stava informando, non conoscevo nessuno che avesse un'esperienza diretta, però mi era piaciuta fin da subito. Ho sempre lavorato in un open space con tanti colleghi, per cui è bella anche l'ambientazione, dove hai tante persone con cui condividere e passare la giornata. E allora sono andato a cercare una postazione, ho visto diversi Coworking e alla fine ho scelto questo. Come ti trovi con la community? Come ti relazioni con altri professionisti che fanno mestieri diversi? Ma io credo che questo sia il valore aggiunto, perché effettivamente potevo anche considerare la scelta di andare a cercare uno spazio con alcuni colleghi che avessero mie attitudini professionali o comunque lavori simili al mio. Però effettivamente ho proprio voluto andare nella direzione un po' contraria per avere professionisti, colleghi con varie attività, che può essere davvero dall'artistico al tecnico. E non è escluso che si possano creare sinergie anche diverse, anche con realtà piuttosto lontane dalla tua. Questo è proprio nello spirito di Cobo. Una domanda riguardo, diciamo, al territorio, all'ecosistema. Tu abiti in questa zona e lavori anche in questa zona? Allora, io abito a 8 km da qua, quindi sono piuttosto vicino, anche se è una zona un po' trafficata, quindi ci vuole un po' di tempo per arrivare in sede. Per quanto riguarda la mia clientela sto cercando di costruirmi, essendo proprio l'inizio in questa zona, però non mi pongo limiti. Se dovesse andare un po' più in là, va bene anche andare verso altri lì di... Certo, è un'attività che non ha... Esatto, diciamo che questo rimane il punto fisso, la sede, però poi da lì ci si può muovere verso anche zone più lontane. Perfetto. Come è stato questo primo periodo e come prevedi che si evolva l'esperienza del co-working? Allora, diciamo che questo periodo è stato un po' particolare perché era proprio l'inizio della mia attività, quindi in questo momento co-working è stata proprio una base d'appoggio su cui facevo avanti e indietro, anche per uffici, per tutte le operazioni che sono di inizio attività. Ovviamente adesso tenderò a passare sicuramente più tempo qui dentro, è molto interessante la libertà d'orario che mi permette di... ovviamente da adesso libero professionista di... eventualmente sabato mattina, pomeriggio, se ho voglia di scambiarlo con una mezzogiornata in settimana. E quindi vedrò un po' come evolverà questo tipo di rapporto con il co-working. Per adesso è stato un'utile base d'appoggio. Ok, quindi ti sembra che possa essere, come dire, la tua dimensione, almeno per un certo periodo. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Ti ringraziamo molto Marco, ti facciamo... Grazie a voi. ...i migliori auguri. Grazie, buona giornata a tutti. A presto, con questo video lo potrai vedere su coworkingsovico.it. A presto.